Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi dei giornali, dei quotidiani italiani, non solo. Ovviamente i temi di oggi sono quelli in fondo che c'erano ieri, poi vedremo che il tema che a me diverte di più riguarda la Boldrini e Facebook, quindi i temi sono quelli del terrorismo, un nuovo finto o presunto attentato sarebbe stato sventato e poi c'è il grande tema di Ischia ovviamente e degli abusi di Lizzi e poi una battuta perché voglio fare una rassegna più breve oggi perché la voglio dedicare appunto alla questione Boldrini, la battuta è il governo pronto, subito è necessario fare un censimento delle zone abusive, delle case abusive. Sono sempre i tavoli che si aprono in Italia, il censimento, il numero eccetera, ma basta vedere che su 2922 decreti di abbattimento ne sono stati realizzati 22, è inutile che perdiamo tempo in quella zona, è inutile che perdiamo tempo a fare censimenti della minchia, perdere consulenze, lavori eccetera. I magistrati hanno deciso 2922 abbattimenti, ne sono stati realizzati 22, è inutile che censiamo, partiamo da quelli, il problema qua è che anche quando ci accorgiamo che sono abusive e c'è il timbro del magistrato e non si possono per mille ragioni, i sindaci non intervengono. Direi che questo mi sembra molto più importante che un censimento, cioè l'execution di quello che il diritto prevede. Poi c'è questa storia della Raggi che è incredibile, licenzia il suo assessore Mazzillo, oggi c'è sul Repubblica Rizzo che lo intervista perché l'aveva praticamente molto criticata dicendo che si andava a sbattere e che conveniva non avere persone calate dall'alto a Roma e ovviamente viene sostituito una persona calata dalla Livorno, un ex assessore, l'assessore al bilancio di Livorno di Don Garin che lascia la poltrona al Livorno di assessore, come se poi non fosse più utile farlo e va a Roma a fare lo stesso mestiere. Cioè è una cosa allucinante questa, non voglio entrare nel merito dei curriculum del nuovo assessore che faceva il cassiere in una discoteca perché questo è un argomento troppo facile, troppo semplice per una classe dirigente nuova che ovviamente non aveva mestieri, anzi questo è forse uno dei pochi del Movimento 5 Stelle che un mestiere ce l'aveva, cioè il cassiere in discoteca che è un mestiere come tanti altri prima di fare l'assessore al bilancio a Livorno e adesso nella città più importante d'Italia, soprattutto la più indebitata d'Italia, forse del mondo, perché i debiti che è Roma, basta pensare ai debiti contratti ovviamente dalle giunte precedenti, a quella della Raggi dovrebbero fare impallidire qualsiasi cassiere di qualsiasi società, non soltanto di una discoteca ma forse anche della Procter & Gamble. L'altra cosa incredibile dell'improvvisazione che può esserci a Roma ma come può esserci negli alti vertici militari, quelli che vedete voi americani con 100 stellette, sta succedendo qualcosa, i giornali ne parlano poco ma a me direte moltissimo, sta succedendo qualcosa nel Pacifico, queste navi da guerra, voi immaginate West Point, tutti precisi, con i capelli rasati, sembra di uscire da Top Gun, insomma negli ultimi mesi si stanno a scontrare queste navi come se fosse un videogioco, è successo una settimana fa, c'è poco da ridere, è stato asperato un incrociatore McCain, 17 persone morte, marinai, 10 dispersi e 7 morti in un peschereccio che l'ha speronato, un caso più unico che raro? No, altri 7 incidenti simili, il 16 giugno è stata invece investita la Fitzgerald, un altro incrociatore americano, hanno fatto fuori il capo, il vice ammiraglio che comanda la settima flotta del Pacifico, io questa la trovo una storia straordinaria perché si impasta, non bisogna chiamarsi raggi per essere improvvisati, si può anche essere generali a 5 botte e fare dei casini nel Pacifico come quelli che sembra stia facendo la flotta americana, è una storia che qualcuno dice sì, leggo anche nei vostri commenti sono attentati velati, io dubito, devo dire la verità anche se ovviamente non ne ho conoscenza perché chi sa bene le carte di questa roba sono davvero in pochi, ma questa rassegna è titolata ed è dedicata al mio amico perché ci ho lavorato insieme quando ero all'opinione, Giovanni Diversamente Bianco, almeno così oggi si firma Giovanni Negri, ex segretario del partito radicale, una persona davvero moderata, è uno di quei radicali moderati che ci esistono, nei radicali ci sono gli esuberanti e i moderati, Giovanni Negri è un moderato, mi sembra che abbia anche smesso di fare il politica in maniera attiva e scrive una lettera oggi al libro che ho intenzione di leggervi con una certa attenzione perché racconta il paradosso incredibile in cui noi ci siamo ficcati e anche io che faccio questa zuppa di porro e per fortuna riesce sempre ad andare in onda e forse qualche volta rischia, mi auguro che il successo che voi gli avete decretato con le tante visualizzazioni che fate mi permetta di resistere, ma non è detto, il successo non può, come dimostrano tanti altri casi, essere, ma non sto parlando solo di Facebook, sto parlando per esempio anche della Rai, essere uno scudo contro le censure più assurde. Caro direttore, scrive Giovanni Diversamente Bianco, lui si chiama Giovanni Negri, caro direttore, ora è 6.40 di tre mattine fa, leggo che Boldrini annuncia querele al mondo, la Presidenta della Camera delle deputate e dei deputati non si tocca, scrive Giovanni Diversamente Bianco. Andiamo avanti, che cosa scrive Gianni Diversamente Bianco? Dice, incrocio con un'osservazione di un'amica perfetta Boldrina di poche ore prima, aperte le virgolette. Mai sentito quella contadina che usciva dalla parrocchia ieri in paese? Ha detto che ha visto la foto di una negretta? Ma come si fa? Spiegateglielo, non si dice negretta. Su Facebook Giovanni Diversamente Bianco si chiede se entrambe le Boldrine, la Boldrini e la Boldrina, ci fanno o ci sono. Scrivo un post sbadigliando, insomma scrive un post commentando questa sua amica che dice che una contadinetta aveva parlato di una negretta e negretta non è un termine accettabile e dice le sue cose. Insomma, devo dire, un post come tanti altri che fa Giovanni Diversamente Bianco e quindi fino a qua saremo nel, diciamo, ex esercito radicale, moderato, persona normale, tra l'altro non un, come possiamo dire, non un acceso anti-immigrazione, tutt'altro è anche uno che ha difeso i diritti delle donne, dei più deboli, delle minoranze. Insomma, con una storia alle sue spalle, scrive questo post alle 6.40 di mattina su Facebook, titolo Le Boldrine. Succo e un incubo ormai sono dovunque, dilagano in tv, predicano dall'autoradio, tengono banco a cena ad amici, pontificano tra gli ombreglioni, sono loro le Boldrini, le Erinni dei nostri tempi, le Laure formato Mignon, le Lilli da Rimini, le Concite da Gommone. Loro sanno letteralmente tutto, dalla flutulenza simile al teorema di Keplero, dal sovranismo in Virginia all'orospito tantrico e così avanti. Non dicono, sentenziano, non vivono, bacchettano, sono loro le vere star di quest'estate 2017, le Boldrine, le Regine del Bonton. Questo è il post fatto da Negri, detto diversamente bianco, non ci sono insulti, non c'è nulla di scandaloso in quello che dice, dice semplicemente che c'è questa tipologia umana nuova che si chiama le Boldrine e le Boldrine sono le star di quest'estate. Risultato inatteso, 40 insulti, scrive Giovanni, sessista, amacista, fallocrata e priapista, 2000, 2000, like, mail, solidarietà, richieste di amicizia che lui non poteva accettare perché è bloccato a 5000 perché questa è la sua pagina personale e non è una pagina pubblica come quella che state vedendo ora. Bene, ma intanto in serata la notizia, Facebook ha cancellato il post, ha cancellato il post che vi ho letto, Facebook ha cancellato il post, bandito, viola le regole, la community, la correttezza, zitto e mosca e tu Giovanni Negri sei sospeso, vietato per un giorno, hai la museruola. Per questo post, dicendo che nel 2017 senza una parolaccia, senza un insulto, soltanto criticando la tipologia umana Boldrini che lui considera la regginetta del 2017, è stato bannato per un giorno ed è stato cancellato il suo post. Rido e vado a dormire, dice Giovanni Negri, mi risveglio, torno alle 6, il giorno dopo si sveglia presto Giovanni Negri, elaboro un nuovo post umile, modesto, supplice. Il dado è tratto, cambio cognome, la ragione è semplice, vincono loro, dato uno sguardo alle loro baccheche politicamente corrette, gli ebrei ne escono vivi a stento, Brunette è un nano lurido e in fin dei conti è stato un bel godere vederle lanciate a quella merda di Oriana Fallaci, sono loro a dettare le regole del Bondon, perciò il cognome Negri è il retaggio dei tempi immondi, di razzismi semantici, di riferimenti superati dalla crescita felici, del boldrinismo politicamente corretto, ho deciso, è un cognome che abbiuro, respingo, voglio rinegare, basta, voglio chiamarmi sobriamente Giovanni Neri o Giovanni Nere o se preferite Giovanni Diversamente Bianco, risultato di questo post che ha scritto il giorno dopo, dopo che lui gli hanno cancellato il primo post, l'hanno bannato per un giorno, risultato, Facebook comunica che il mio pezzo non è accettato, censurato, per tre giorni non posso scrivere, per tre giorni Giovanni Negri non può scrivere perché ha scritto due post su Facebook, io conosco il country manager di Facebook in Italia che si chiama Colombo e persona troppo intelligente per avere alcun che ha a che fare con questa censura, non c'entra sicuramente lui come non c'entrano pezzi suami, ma se alcuni di loro mi stanno guardando in questo momento, io consiglio loro di fare una telefonata e rassicurare lui, noi, fare un post e raccontare, sempre che quello che scrive Giovanni Diversamente Bianco sia esattamente quello che scrive sul Libero, ma io ne sono convinto, che non è immaginabile che uno strumento straordinario come questo si possa comportare in questa maniera incredibile, Giovanni Negri censurato, bannato per tre giorni da Facebook per questi post, è una cosa incredibile, abbiamo già un ordine giornalisti che ci fa schifo, non possiamo ridurci a pensare che uno spazio di libertà come è stato oggi e come lo è stato per me Facebook, dove posso dire quello che voglio e quello che mi pare e non ho avuto mai problemi fino a questo momento in questo spazio, non posso pensare che questo sia l'atteggiamento che un algoritmo cretino a Londra abbia usato nei confronti di un nostro collega giornalista, ma non dico perché un collega giornalista, perché potrebbe essere chiunque, insomma se questo è il futuro ci sarebbe bisogno di la Boldrini che invece di occuparsi delle sue denunce online si occupasse anche di questo che in un paese normale si chiama censura inaccettabile, ciao.